L'iniziazione. Come si consegue la conoscenza dei mondi superiori. Ottava parte. Alcuni effetti dell'iniziazione. Di Rudolf Steiner. Voce di Marisa Vacca. Una delle massime fondamentali della vera scienza occulta dice che chiunque si dedica allo studio della medesima lo faccia con piena consapevolezza. Non deve imprendere o praticare niente di cui non conosca la portata. L'occultista, il quale dà al discepolo un consiglio o un'istruzione, gli dirà al contempo quale effetto quella pratica potrà produrre nel corpo, nell'anima o nello spirito di chi aspira alla conoscenza superiore. Qui diremo soltanto di alcuni degli effetti che si verificano sull'anima del seguace dell'occultismo. Solo chi conosce le cose che verranno ora comunicate può iniziare con piena comprensione le pratiche che conducono alla conoscenza dei mondi supersensibili. E soltanto una persona si fatta può essere un vero discepolo dell'occultismo. Ogni brancolare nel buio è severamente proibito nella vera disciplina occulta. Chi non vuole compiere la sua istruzione con gli occhi aperti potrà diventare un medium. Alla vera chiarovigenza, nel senso della scienza occulta, non potrà arrivare. Nell'uomo che segue in questo senso gli esercizi descritti nei capitoli precedenti sull'acquisto delle conoscenze superiori, si effettuano anzitutto certe modificazioni del cosiddetto organismo animico. Ma questo organismo non può essere percepito che dal chiaroveggente. Lo si può paragonare a una nube spirituale animica più o meno luminosa in mezzo alla quale sta il corpo fisico dell'uomo. In questo organismo gli istinti, i desideri, le passioni, le rappresentazioni eccetera diventano spiritualmente visibili. Gli appetiti sensuali, per esempio, si palesano in esso come irradiazioni rossicce scure di una determinata forma. Un pensiero puro, nobile, si esprime in un'irradiazione viola rossiccia. Il concetto preciso di un pensatore logico si presenta come una figura giallastra a contorni ben determinati, mentre il pensiero confuso di un cervello disordinato si manifesta come una figura con contorni incerti. I pensieri degli uomini, con opinioni unilaterali e ristrette, si palesano con contorni duri, immobili, mentre quelli delle persone che sono accessibili alle altrui opinioni hanno contorni mobili che si trasformano. Quanto più l'uomo progredisce nell'evoluzione della sua anima, tanto più il suo organismo animico si costituisce regolarmente. Nell'uomo, di cui la vita animica non è sviluppata, esso è confuso, non organizzato. Ma anche in un organismo animico non organizzato, il chiaroveggente può percepire una figura che emerge chiaramente da ciò che la circonda. Essa si estende dall'interiore della testa fino alla metà del corpo fisico. Si palesa come una specie di corpo indipendente dotato di determinati organi. Gli organi di cui ora verrà parlato vengono percepiti spiritualmente nella vicinanza delle seguenti parti del corpo fisico. Il primo, fra i due occhi. Il secondo, vicino alla laringe. Il terzo, nella regione del cuore. Il quarto, vicino alla cosiddetta bocca dello stomaco. Il quinto, il sesto, risiedono nell'addome. Queste figure vengono dall'occultista chiamate ruote, ovvero chakra o anche fiori di loto. Sono così denominate per la loro somiglianza a ruote o a fiori. Bene inteso, bisogna però rendersi chiaramente conto che tali espressioni sono altrettanto poco esatte quanto, per esempio, la denominazione di ali che si suole applicare alle due parti dei polmoni. Come in quest'ultimo caso si sa che non si tratta di ali, così anche nel primo ci si deve ricordare che quelle espressioni sono adoperate figurativamente. Ora, nell'uomo non evoluto, questi fiori di loto, o chakra, sono di colore oscuro e stanno fermi, senza movimento. Nel chiaroveggente, invece, sono in movimento e hanno sfumature luminose di colori. Anche nel medium succede qualcosa di simile, ma in modo diverso. Non daremo qui altre spiegazioni in proposito. Quando dunque un discepolo dell'occultismo inizia i suoi esercizi, succede anzitutto che i fiori di loto, o chakra, si schiariscono, più tardi cominciano a ruoteare. Quando quest'ultimo fatto si verifica, incomincia la capacità della chiaroveggenza. Perché questi fiori sono gli organi sensori dell'anima e la loro rotazione significa che la percezione nel supersensibile è in attività. Nessuno può vedere alcunché di supersensibile se non dopo che i suoi sensi astrali si siano in tal modo sviluppati. L'organo sensorio spirituale, che risiede nella vicinanza della laringe, dà la possibilità di penetrare con lo sguardo chiaroveggente nel pensiero di un altro essere animico. Esso schiude pure una visione più profonda nelle vere leggi dei fenomeni naturali. L'organo nelle vicinanze del cuore conferisce la conoscenza chiaroveggente dei sentimenti delle altre anime. Chi lo ha sviluppato può anche riconoscere talune forze più profonde negli animali e nelle piante. Per mezzo del senso che risiede nelle vicinanze della cosiddetta bocca dello stomaco, si consegue la conoscenza delle capacità e dei talenti delle anime. Esso permette pure di scorgere la parte che animali, piante, pietre, metalli e fenomeni atmosferici, eccetera, hanno nell'armonica economia della natura. L'organo vicino alla laringe ha 16 petali o raggi. Quello nella regione del cuore ne ha 12 e quello nella vicinanza della bocca dello stomaco ne ha 10. Orbene, alcune attività animiche sono connesse allo sviluppo di questi organi sensori e chi le pratica in un determinato modo dà un certo contributo allo sviluppo del relativo organo sensorio spirituale. Dei 16 petali del fiore di loto, 8 vennero già formati nel remotissimo passato, durante uno stadio anteriore dell'evoluzione dell'uomo e a questo sviluppo egli non ha portato nessun contributo. L'uomo li ha ricevuti come un dono della natura, quando ancora era in uno stato di coscienza tra sognato e ottuso e a quel gradino dell'evoluzione dell'umanità essi già erano in stato di attività. Quel genere di attività però era soltanto adatto allo stato ottuso di coscienza e quando più tardi la coscienza si è rischiarata, quei petali si oscurarono e posero termine alla loro attività. Gli altri otto petali l'uomo li può sviluppare da sé per mezzo di esercizi coscienti e allora l'intiero fiore di loto diventa luminoso e mobile. Al singolo sviluppo di ognuno dei 16 petali è collegato l'acquisto di determinate capacità, ma come appunto è stato accennato l'uomo non può svilupparne coscientemente che otto. Gli altri otto ricompariscono poi spontaneamente. Il loro sviluppo si svolge nel modo seguente. L'uomo deve porre cura e attenzione a certi processi animici che egli compie di solito senza fermarci il pensiero. Tali processi sono appunto otto. Il primo riguarda il modo di assimilare le idee. Generalmente l'uomo a questo riguardo se ne rimette completamente al caso. Egli ode o vede questa o quella cosa e forma in ordine ad essa i suoi concetti. Finché egli procede a questo modo il suo fiore di loto a 16 foglie rimane completamente inattivo. Soltanto quando egli intraprende la propria autoeducazione in questa direzione, esso comincia a diventare attivo. A questo fine egli deve sorvegliare le proprie idee. Ogni singola rappresentazione deve acquistare per lui un significato. In ognuna egli deve scorgere un determinato messaggio, una comunicazione intorno alle cose del mondo esteriore, e non deve contentarsi di rappresentazioni che non abbiano tale significato. Egli deve dirigere l'intiera sua vita concettuale in modo che essa diventi uno specchio fedele del mondo esteriore, e deve adoperarsi ad allontanare dalla sua anima le rappresentazioni errate. Il secondo processo animico, analogo al primo, concerne le risoluzioni del discepolo. Egli non deve prendere una risoluzione, anche in ordine alle cose più insignificanti, se non dopo matura e seria riflessione. Deve tenere lontano dall'anima sua ogni azione meno che pensata, ogni attività non ragionata, ogni suo atto deve poggiare su motivi ben vagliati, ed egli deve rinunziare a ciò che non è determinato da una ragione valevole. Il terzo processo si riferisce alla favella. Le labbra del discepolo devono proferire soltanto ciò che ha senno e significato. Ogni discorrere per semplice piacere di parlare lo distrae dalla sua via. L'abituale modo di intrattenersi, in cui si suol discorrere brillantemente e alla rinfusa dei soggetti più svariati, deve essere evitato dal discepolo. Egli non deve però rinunziare alle relazioni con i suoi simili, perché è appunto intrattenendosi con essi che la sua conversazione può sviluppare un significato. Egli discorre e risponde a ognuno, ma lo fa con riflessione, a ragion veduta. Non parla mai a caso e cerca di non usare né troppe né troppo poche parole. Il quarto processo animico riguarda il modo di regolare l'attività esteriore. Il seguace dell'occultismo cerca di disporre la sua attività in modo che armonizzi con quella dei suoi simili e con le peculiarità del suo ambiente. Egli rinunzia alle azioni che possono turbare gli altri o che sono in antagonismo con ciò che si svolge attorno a lui. Cerca di disporre la propria attività in modo che essa si inserisca armonicamente nell'ambiente, nella sua situazione, nella vita, ecc. Quando è stimolato all'azione da qualche movente esteriore, egli esamina con cura come meglio gli convenga comportarsi in quell'occasione. Se agisce, invece, per iniziativa propria, egli pesa e valuta gli effetti del suo modo di agire con la maggiore chiarezza. Il quinto punto da considerare riguarda l'organizzazione dell'intiera vita. Il discepolo cerca di vivere in conformità con la natura e con lo spirito. Non ha mai fretta, ma non trascura niente e si tiene ugualmente lontano dal soverchio affacendarsi quanto dall'indolenza. Egli considera la vita come un mezzo al lavoro e si regola in conseguenza e organizza la cura della sua salute, le sue abitudini, ecc., in modo da farne risultare una vita armonica. La sesta condizione si riferisce alle aspirazioni umane. Il discepolo esamina le sue facoltà e le sue capacità e si regola secondo tale autoconoscenza. Cerca di non fare niente che ceda le sue forze, ma non trascura neppure alcuna cosa che risieda nei limiti di esse. D'altra parte, egli si prefigge degli scopi che coincidono con gli ideali, con gli altri doveri dell'uomo. Non si limita alla parte di semplice ruota nella macchina sociale, ma cerca di comprendere i suoi compiti e di elevare lo sguardo al di sopra della vita quotidiana. Egli aspira ad eseguire i suoi doveri sempre meglio e con maggior perfezione. La settima condizione imposta alla vita animica del discepolo riguarda lo sforzo con cui egli deve tendere ad imparare quanto più è possibile dalla vita. Nulla si svolge dinanzi a lui che non gli serva di stimolo per raccogliere esperienze che gli saranno utili per la vita. Se egli ha compiuto qualche azione sbagliata o imperfetta, deve trarne occasione per compierla in seguito in modo giusto e perfetto. E al medesimo fine deve osservare anche l'agire degli altri. Deve insomma cercare di raccogliere una ricca messe di osservazioni da cui attingere con cura nell'avvenire utile ammaestramento. Non deve compiere azione alcuna senza consultare quelle passate esperienze che possono essergli di aiuto per le sue decisioni e attività. L'ottava condizione finalmente richiede che il discepolo dell'occultismo volga di tempo in tempo uno sguardo nella propria interiorità. Egli deve immergersi in sé stesso, chiedere seriamente consiglio a sé medesimo, formare e valutare i principi su cui fonda la propria vita, passare mentalmente in rassegna le proprie cognizioni, esaminare i suoi doveri, riflettere sul contenuto e sullo scopo della vita, eccetera. Di tutte queste cose del resto si è già parlato nei capitoli precedenti. Torniamo qui a enumerarle soltanto nei riguardi dello sviluppo del fiore di loto a 16 petali. Per mezzo dell'esercizio di esse, questo fiore diventa vie più perfetto, perché da tali esercizi dipende lo sviluppo della facoltà della chiaroveggenza. Quanto più, per esempio, i pensieri e le parole di un uomo sono in armonia con i processi del mondo esteriore, tanto più presto si sviluppa quella facoltà. Chi pensa o dice cosa non vera uccide qualcosa nel germoglio del fiore di loto a 16 petali. La veracità, la lealtà, l'onestà sono a questo riguardo delle forze costruttrici. La menzogna, la falsità, la slealtà sono forze distruttrici. E il discepolo deve sapere che in questo campo non basta la buona intenzione, ma occorre vera azione. Se ciò che penso o dico non si accorda con la realtà, distruggo qualcosa nel mio organo sensorio spirituale, anche se credo di essere animato dalle migliori intenzioni. Succede come al bambino, che si scotta quando mette la mano sul fuoco, sebbene non lo faccia che per ignoranza. Il modo sopradescritto, secondo il quale sono ordinati i suddetti processi animici, permette al fiore di loto a 16 petali di irradiare bellissimi colori e gli conferisce un movimento regolare. A questo proposito occorre però osservare che la facoltà della chiaroveggenza di cui si è parlato non può affacciarsi prima che si sia raggiunto un determinato grado di perfezionamento dell'anima. Finché l'uomo trova difficoltà a orientare la vita in tale direzione, la chiaroveggenza non si presenta. Finché gli occorre dedicare molta cura ai processi descritti, non è maturo. Soltanto quando egli è progredito al punto di vivere nel modo descritto, altrettanto abitudinariamente quanto nella vita ordinaria, si affacciano in lui i primi segni della chiaroveggenza. Allora quel modo di vivere non deve più riuscire faticoso, ma deve essere divenuto naturale. Non deve più occorrere di esercitare una continua sorveglianza su se stesso e di stimolarsi a quella vita. Essa deve essere diventata un'abitudine. Vi sono alcuni metodi per mezzo di cui lo sviluppo del fiore di loto a sedici petali può essere prodotto in altro modo, ma la vera scienza occulta li respinge, perché conducono alla distruzione della salute del corpo e alla perversione del senso morale. Essi sono più facili ad eseguire che non quelli descritti, i quali sono noiosi e faticosi, ma conducono a sicura meta e non possono che fortificare il morale. Lo sviluppo irregolare di un fiore di loto, quando sorge una certa facoltà di chiaroveggenza, produce non soltanto illusioni e idee fantastiche, ma anche errori e mancanza di equilibrio nella vita ordinaria. Per causa di tale sviluppo si può diventare paurosi, invidiosi, vanitosi, superbi, ostinati, eccetera, mentre prima non si avevano affatto queste qualità. È stato detto del fiore di loto a sedici petali, che otto di questi erano già sviluppati in un remotissimo passato e che si ripresentano spontaneamente nel corso dell'educazione occulta. Ormai, dunque, il discepolo deve volgere ogni sua cura sugli altri otto petali. Quando la disciplina non è giusta, può succedere facilmente che tornino a presentarsi soltanto i petali anticamente sviluppati, mentre quelli che ancora si devono formare rimangono atrofizzati. Ciò si verifica soprattutto quando l'istruzione non cura abbastanza il pensiero logico e razionale. È di somma importanza che il discepolo sia un uomo ragionevole, con lucidità di pensiero, ed è ancora più importante che egli manifesti questa chiarezza nelle sue parole. Gli uomini, i quali cominciano a presentire alcunché del mondo supersensibile, ne parlano spesso e volentieri, ma così facendo impediscono la propria giusta evoluzione. Quanto meno si parla di queste cose, tanto meglio sarà. Dovrebbe parlarne soltanto chi ha raggiunto in proposito un determinato grado di chiarezza. Al principio dell'insegnamento, gli studenti dell'occultismo sono sorpresi, di solito, nel vedere quanto poco la persona già spiritualmente evoluta sia curiosa di conoscere le loro esperienze. Sarebbe meglio per essi, appunto, di non raccontare affatto le loro esperienze e di parlare soltanto della maggiore o minore difficoltà che incontrano nel compiere i loro esercizi o nel seguire le istruzioni, perché la persona spiritualmente evoluta ha mezzi ben diversi per giudicare dei loro progressi che non le loro dirette comunicazioni. Gli otto petali che sono appunto in questione riescono alquanto induriti da tali comunicazioni, mentre dovrebbero conservarsi morbidi e flessibili. Per spiegarci meglio citerò un esempio, che per maggior chiarezza non verrà tratto dal mondo supersensibile ma dalla vita ordinaria. Vogliamo supporre che io oda una notizia e che mi formi subito un giudizio in proposito. Poco dopo mi viene riferita un'altra notizia sul medesimo argomento, che non concorda con la prima, e mi trovo perciò costretto a modificare il giudizio che mi ero formato. Questo fatto esercita un'influenza non favorevole sul mio fiore di loto a sedici petali. Tutto ciò sarebbe invece andato ben diversamente se da principio avessi aspettato a formarmi un giudizio, se avessi serbato silenzio interiormente con i pensieri, come pure esteriormente con le parole, sull'intiera vicenda, fino al momento in cui potessi avere elementi assolutamente sicuri sui quali basare il mio giudizio. La prudenza nel formare ed esprimere dei giudizi diventa gradatamente la caratteristica speciale del discepolo dell'occultismo. Per contro cresce la sua ricettività per le impressioni e le vicende che egli lascia sfilare dinanzi a sé silenziosamente, al fine di crearsi la maggior copia possibile di esperienze, alle quali a tenersi quando gli è necessario di giudicare. Tale modo prudente di agire produce nei petali del fiore di loto delle sfumature rosse azzurrognole e rosse rosea, mentre nel caso opposto le sfumature che si presentano sono di colore rosso scuro o arancione. In modo analogo al fiore di loto a sedici petali si forma pure il fiore di loto a dodici petali che risiede nelle vicinanze del cuore. Anche in questo la metà dei petali già esisteva ed era in attività in un passato stadio di evoluzione dell'uomo. Questi sei petali perciò non richiedono una speciale elaborazione durante la disciplina occulta. Essi compariscono spontaneamente e cominciano a roteare non appena gli altri sei vengono elaborati e per favorire il loro sviluppo occorre che l'uomo dia coscientemente una determinata direzione ad alcune speciali attività dell'anima. Orbene, bisogna rendersi ora chiaramente conto che le percezioni dei singoli sensi spirituali o animici hanno caratteri diversi. La percezione del fiore di loto a dodici petali è diversa da quella del fiore che ne ha sedici. Quest'ultimo percepisce le figure. I pensieri di un'anima, le leggi in ordine alle quali un fenomeno naturale si effettua, si palesano al fiore di loto a sedici petali in forma di figure. non sono figure rigide, immobili, bensì attive, piene di vita. Il chiaroveggente in cui è sviluppato questo senso può dire per ogni genere di pensiero, per ogni legge della natura, la forma in cui si esprime. Un pensiero di vendetta, per esempio, assume una figura a forma di freccia dentellata. Un pensiero benevolo ha spesso la forma di un fiore che si schiude. I pensieri esatti, significativi, di solito hanno forma regolare, simmetrica. I concetti poco chiari hanno contorni confusi e incerti. Per mezzo del fiore di loto a dodici petali si ottengono percezioni affatto diverse. La natura di queste percezioni si può caratterizzare pressa poco paragonandole a calore e a freddo dell'anima. Un chiaroveggente, dotato di questo senso, sente emanare, dalle figure che egli percepisce per mezzo del fiore di loto a sedici petali, tale calore animico o freddo animico. immaginiamo ora che un chiaroveggente abbia sviluppato il solo fiore di loto a sedici petali e non quello di dodici. In questo caso, egli, di un pensiero benevolo, vedrebbe soltanto la figura sopradescritta, mentre chi ha sviluppato ambo i sensi osserva anche quell'emanazione del pensiero che appunto si può solo indicare col nome di calore dell'anima. Occorre però far notare che nella disciplina occulta un senso non viene mai sviluppato senza l'altro. Di guisa che l'esempio ho citato non è che ipotetico e mira soltanto ad arrivare a maggiore chiarezza. Per mezzo della formazione del fiore di loto a dodici petali si sviluppa nel chiaroveggente anche una profonda comprensione dei processi della natura. Tutto ciò che è in via di crescere, di svilupparsi, emana calore animico. Tutto ciò che è in via di appassire, deperire, morire, si presenta col carattere di freddo animico. Lo sviluppo di questo senso può essere accelerato nel seguente modo. Occorre anzitutto che il discepolo regoli il corso dei propri pensieri, il cosiddetto dominio del pensiero. Come il fiore di loto a sedici petali viene sviluppato per mezzo di pensieri veri, significativi, così quello a dodici petali viene sviluppato per mezzo dell'interiore padronanza del corso del pensiero. I pensieri erranti, che non si susseguono in modo assennato e logico, ma che sono associati per puro caso, guastano la forma del fiore di loto. Quanto più un pensiero fa seguito all'altro, quanto più tutto ciò che non è logico viene tolto di mezzo, tanto più quest'organo sensorio consegue la giusta sua forma. Quando dei pensieri non logici vengono espressi davanti al discepolo, egli deve mentalmente subito correggerli pensando a quelli giusti. Per favorire la propria evoluzione, egli non deve, con poco spirito di carità, evitare la compagnia delle persone poco logiche, né deve sentirsi spinto a correggere immediatamente tutto ciò che vi ha di non logico nel suo ambiente. Gli conviene piuttosto di riordinare interiormente, con completa calma, i pensieri che lo assalgono dall'esteriore e di dar loro una direzione logica e assennata. Nei propri pensieri, pure, egli si sforza di conservare ovunque questa direzione. La seconda qualità che il discepolo deve sviluppare è quella di introdurre nelle proprie azioni il medesimo ordine di giusta consecutività, controllo delle azioni. Ogni instabilità e disarmonia dell'azione conduce a rovina il fiore di loto di cui ora parliamo. Il discepolo dell'occultismo, dopo ogni sua azione, deve regolare quella seguente in guisa che risulti in modo logico dalla prima. Chi agisce un giorno in senso contrario all'altro non svilupperà mai la facoltà sopradiscritta. La terza qualità è lo sviluppo della perseveranza. Il discepolo dell'occultismo non lascia mai che alcuna influenza lo devi dallo scopo che si è imposto, finché continua a ritenerlo giusto. Gli ostacoli lo inciteranno a perseverare, non saranno mai per lui un impedimento. La quarta qualità è l'indulgenza, tolleranza verso gli uomini, verso gli altri esseri e anche di fronte ai fatti. Il discepolo reprime ogni superflua critica di ciò che è imperfetto, brutto o cattivo e cerca piuttosto di comprendere tutto ciò che gli si avvicina. Come il sole non nega la sua luce al brutto e al male, così egli pure non può mai negare il suo interessamento intelligente. Se il discepolo si trova di fronte a qualche contrarietà, egli non si perde in critiche sfavorevoli, ma si adatta alle circostanze e cerca, per quanto la sua forza glielo permetta, di volgere la cosa in bene. Egli non considera le altrui opinioni soltanto dal proprio punto di vista, ma cerca di considerarle dal punto di vista degli altri. La quinta qualità è l'obiettività di fronte ai fenomeni della vita. A questo riguardo si usa parlare anche della fede o della fiducia. Il discepolo muove incontro a ogni uomo, a ogni essere con questa fiducia, e di essa si impregna per ogni sua attività. Quando qualcosa gli viene comunicato, non dice mai a se stesso, non credo a questo perché è contrario all'opinione che ho avuta finora. Egli, piuttosto, è sempre pronto a rivedere la sua opinione e il suo punto di vista e a correggerlo. Il discepolo si mantiene sempre in uno stato di ricettività verso tutto ciò che gli si avvicina e ha fiducia nell'efficacia di ciò che intraprende. Egli scaccia dal suo essere la timidità e il dubbio. Se nutre qualche proposito, ha pure fiducia nella forza di questo suo proposito, e cento insuccessi non valgono a togliergli questa fede. Questa è quella fede che è capace di muovere le montagne. La sesta qualità è l'acquisto di un certo equilibrio nella vita, imperturbabilità. Il discepolo si sforza di conservare un'equilibrata serenità, così nel dolore come nella gioia. Perde l'abitudine di oscillare fra una gioia esagerata e una depressione mortale. La sventura e il pericolo lo trovano corazzato quanto la gioia e la prosperità. I lettori di opere spirituali scientifiche trovano ciò che è stato qui descritto è numerato nelle sei qualità che chi aspira all'iniziazione deve sviluppare in sé. Qui occorreva esporre il loro rapporto con il senso animico che si chiama il fiore di loto a dodici petali. La disciplina occulta può anche dare delle speciali istruzioni che accelerano la maturazione di questo fiore. Ma qui pure la struttura regolare della forma di quest'organo sensorio dipende dall'evoluzione delle qualità sopracitate. E se a questa evoluzione non è stato provveduto, l'organo assume forma di vera caricatura. In tal caso, con lo svilupparsi di una certa chiaroveggenza, le suddette qualità possono volgersi al male anziché al bene. L'uomo può diventare particolarmente intollerante, pauroso, contrario al suo ambiente. Per esempio, egli può arrivare a scorgere i sentimenti delle altre anime e in conseguenza ad allontanarsene o a odiarle. E questo può giungere a tal punto che per il freddo che gli invade l'anima di fronte alle opinioni opposte alle sue, egli non è in grado di ascoltarle o assume un atteggiamento ostile verso di esse. Se a tutto ciò che è stato detto il discepolo dell'occultismo aggiunge l'osservanza di alcune istruzioni che può ricevere dal suo maestro soltanto verbalmente, egli determina un corrispondente acceleramento nello sviluppo del fiore di loto. Tuttavia, le indicazioni che qui vengono date conducono assolutamente alla vera disciplina occulta. Anche per colui però che non vuole o non può seguire una disciplina occulta, riesce utile organizzare la vita nella direzione indicata, perché l'effetto sull'organismo animico si verifica in tutti i casi, sia pure lentamente. Per il discepolo dell'occultismo l'osservanza di queste massime fondamentali è indispensabile. Se egli seguisse una disciplina occulta senza osservarle penetrerebbe nei mondi superiori con un occhio mentale difettoso e invece di riconoscere la verità andrebbe in tal caso soggetto soltanto a errori e illusioni. Diventerebbe sotto un certo riguardo chiaroveggente ma in realtà cadrebbe vittima di una cecità maggiore di prima. perché fino allora perlomeno egli si teneva forte nel mondo sensibile e in questo aveva un determinato appoggio. Ora però egli vede dietro al mondo sensibile e di esso comincia a dubitare prima di trovarsi sicuro in un mondo superiore. Gli potrà allora anche succedere di non poter più distinguere il vero dal falso e di perdere ogni direttiva nella vita. Per questa ragione appunto la pazienza è tanto necessaria in queste cose. Bisogna sempre riflettere che alla scienza occulta non è permesso di impartire le sue istruzioni se non in misura corrispondente alla buona volontà che il discepolo dimostra per l'evoluzione regolare dei fiori di loto. Si svilupperebbero delle vere caricature di questi fiori se venissero portati a maturità prima di aver conseguito con tranquillità la forma che ad essi spetta di avere. Perché le istruzioni speciali della scienza occulta favoriscono la maturazione. La forma però viene data dal genere di vita descritto. È particolarmente delicata la natura dell'educazione che è necessario dare all'anima per lo sviluppo del fiore di loto a dieci petali. Perché si tratta la natura di imparare a dominare da se stessi in modo cosciente le impressioni dei sensi. Per il chiaroveggente principiante questo è specialmente indispensabile perché così soltanto egli sarà in grado di evitare una sorgente di innumerevoli illusioni e di errori spirituali. L'uomo generalmente non si rende affatto conto da quali cose le sue idee i suoi ricordi siano dominati e da quali cause vengano determinati. Consideriamo il seguente esempio. Qualcuno viaggia in ferrovia ed è assorto in un pensiero. Ad un tratto il suo pensiero prende una direzione affatto diversa. Egli si ricorda di un esperienza avuta molti anni prima e la intreccia coi suoi pensieri attuali. Non si è però accorto che i suoi occhi si sono volti verso la finestra e che il suo sguardo si è fermato sopra un uomo che assomigliava a una persona che aveva preso parte all'esperienza ricordata. Ciò che egli ha veduto non affiora affatto nella sua coscienza. Gli se ne presenta soltanto l'effetto e così egli crede che il ricordo sia sorto spontaneamente in lui. Quanti mai casi di questo genere non succedono nella vita? Molte cose da noi sperimentate o lette esplicano un'azione nella nostra vita senza che se ne possa rintracciare coscientemente il rapporto. Qualcuno, per esempio, ha antipatia per un determinato colore ma non sa che la sua avversione deriva dal fatto che un maestro, che lo ha tormentato molti anni prima, portava un abito di quel colore. Infinite illusioni poggiano sopra associazioni di idee di questo genere. Molti fatti si imprimono nell'anima senza che per questo penetrino anche nella coscienza. Può succedere, per esempio, che qualcuno legga in un giornale la notizia della morte di una persona conosciuta e si immagini di avere già previsto quella morte il giorno prima, sebbene non avessi udito né veduto niente che potesse suscitargli tale idea. Ed è vero, infatti, che il giorno prima era sorto in lui, come spontaneamente, il pensiero che quella persona morirebbe. Ma egli non tiene conto della circostanza che un paio d'ore prima di aver quel pensiero era andato a far visita a un amico, sulla tavola del quale si trovava un giornale. Pur senza leggerlo, inconscientemente il suo sguardo si era posato sulla notizia della grave malattia della persona in questione. Quell'impressione non penetrò nella sua coscienza e tuttavia ne è derivata la premonizione. Se si riflette su tali circostanze, ci si può rendere conto di quale profonda sorgente esse possano essere di illusioni e di fantasticherie. E questa sorgente deve essere arginata da colui che vuol formare il suo fiore di loto a dieci petali. Perché per mezzo di questo fiore il discepolo può percepire delle qualità profondamente nascoste nelle anime altrui, ma non può fare assegnamento sulla verità di queste sue percezioni se non dopo essersi completamente liberato dalle illusioni sudescritte. A tal fine occorre acquistare completa padronanza su ciò che dal mondo esteriore agisce su di noi e acquistarla a tal punto che le impressioni che non si vogliono ricevere non siano da noi effettivamente accolte. Una capacità si fatta può conseguirsi soltanto per mezzo di una forte vita interiore. Bisogna che la nostra volontà acquisti l'abito di lasciare agire su di noi soltanto le cose sulle quali è volta la nostra attenzione e di sottrarci invece completamente alle impressioni che volontariamente non abbiamo cercate. Ciò che si vede dobbiamo volerlo vedere e ciò su cui non volgiamo la nostra attenzione deve effettivamente non esistere per noi. Quanto più il lavoro interiore dell'anima diventa vitale ed energico, tanto più riusciremo a conseguire questo risultato. Il discepolo deve evitare ogni oziosa divagazione della vista e dell'udito. Devono esistere per lui soltanto quelle cose verso le quali ha diretto volontariamente l'occhio o l'orecchio. Deve esercitarsi anche nel massimo frastuono a non udire affatto a meno che non voglia udire e deve far sì che il suo occhio non possa ricevere le impressioni di ciò che egli non ha intenzione di vedere. Deve essere difeso come da una corazza psichica contro tutte le impressioni incoscienti. In questa direzione occorre che rivolga speciale cura alla vita del pensiero. Egli si propone un pensiero e cerca poi di pensare soltanto a ciò che coscientemente è pienamente libero può riconnettere a quel pensiero e allontana da sé ogni idea capricciosa. Se desidera stabilire un qualsiasi rapporto fra quel pensiero e qualche altro che gli è sopravvenuto deve esaminare attentamente dove quest'ultimo gli è provenuto. Anzi egli va oltre. Se per esempio sente una determinata antipatia verso qualche cosa la combatte e cerca di stabilire con quella cosa una relazione cosciente. In questo modo gli elementi incoscienti penetrano sempre meno nella sua vita animica e soltanto per mezzo di tale severa autodisciplina il fiore di loto a dieci petali consegue la sua giusta forma. La vita animica del discepolo dell'occultismo deve diventare una vita di continua attenzione ed egli deve imparare ad allontanare da sé tutto ciò che non vuole o non deve osservare. Se a tale autodisciplina si aggiunge una meditazione conforme alle istruzioni della scienza occulta allora il fiore di loto che si trova nella regione epigastrica matura in modo giusto e ciò che per mezzo degli organi sensori spirituali prima descritti non aveva che forma e calore acquista spiritualmente luce e calore. Così si rivelano per esempio talenti e capacità di anime forze e qualità occulte della natura. L'aura colorata degli esseri viventi diventa così visibile e ciò che ci attornia manifesta in tal modo le sue qualità animiche. È evidente che proprio in questo speciale campo il nostro sviluppo richiede massima cura perché l'attività dei ricordi incoscienti vi è infinitamente intensa. Se così non fosse molti uomini possederebbero il senso di cui ora parliamo perché esso si affaccia quasi subito non appena l'uomo acquista veramente tale padronanza sulle impressioni dei suoi sensi che esse non sono più soggette altro che alla sua attenzione o disattenzione. Questo senso animico rimane inattivo soltanto fino a quando la forza dei sensi esteriori lo conservi in uno stato di soggezione e di ottusità. Più difficile dello sviluppo del fiore di loto or ora descritto riesce quello del fiore a sei petali che risiede al centro del corpo perché per la formazione di esso occorre che il discepolo si sforzi di acquistare per mezzo dell'autocoscienza completa padronanza sull'intiera sua personalità. Diguisa che corpo, anima e spirito si trovino in lui in perfetta armonia. Le funzioni del corpo, le inclinazioni e le passioni dell'anima, i pensieri e le idee dello spirito devono essere portate a perfetto accordo fra loro. Il corpo deve essere nobilitato e purificato in guisa che i suoi organi non stimolino ad altro che a ciò che può servire all'anima e allo spirito. L'anima non deve essere spinta dal corpo a desideri e a passioni che contraddicano a un pensare puro e nobile. Lo spirito non deve però, con i suoi doveri e le sue leggi, dominare sull'anima come fosse una sua schiava. È questa invece che per propria libera inclinazione deve seguire quei doveri e quelle leggi. Il dovere non deve apparire al discepolo come qualcosa a cui egli si adatta a malincuore, ma come qualcosa che egli compie perché l'ama. Il discepolo deve sviluppare un'anima libera che stia in equilibrio fra la materialità e la spiritualità. Egli deve arrivare a tanto da potersi abbandonare alla sua materialità perché questa è talmente purificata che ha perduto la forza di attirarlo in basso a sé. Non deve essere più per lui necessario di frenare le sue passioni perché queste seguono spontaneamente la direzione giusta. Finché l'uomo ha bisogno di mortificarsi non può, come discepolo, superare un determinato gradino perché una virtù, la cui pratica costa ancora sforzo, non ha per l'occultismo alcun valore. Finché il discepolo ha dentro dei desideri, questi disturbano il suo progresso anche se egli si adopera a non assecondarli e poco importa che questi si riferiscano al corpo o all'anima. Se, per esempio, qualcuno evita uno speciale eccitante al fine di purificarsi attraverso la rinunzia a quel piacere, questa astinenza gli sarà di aiuto soltanto se non sarà causa di sofferenza per il suo corpo. Se questo invece ne soffre, vuol dire che il corpo brama quell'eccitante e la rinunzia allora non ha valore. In questo caso può anche succedere che l'uomo debba rinunziare a tutta prima allo scopo a cui tende, fino a quando non gli si presentino, delle condizioni materiali più favorevoli e ciò potrebbe verificarsi forse soltanto in un'altra vita. In certe situazioni una rinunzia ragionevole rappresenta un progresso molto più grande che non lo sforzarsi di ottenere una cosa a cui in date circostanze non si può arrivare. Effettivamente, una rinunzia ragionevole favorisce maggiormente l'evoluzione che non lo sforzo ostinato e inutile. Chi ha sviluppato il fiore di loto a sei petali entra in comunicazione con esseri appartenenti ai mondi superiori, ma soltanto quando la loro esistenza si palesa nel mondo delle anime. La disciplina occulta, però, non consiglia di sviluppare questo fiore di loto se prima il discepolo non si sia talmente progredito da poter elevare il suo spirito fino a un mondo ancora più alto. Questa penetrazione nel vero mondo dello spirito deve sempre, cioè, accompagnare la formazione dei fiori di loto, senza di che il discepolo potrebbe cadere nella confusione e nell'incertezza. Egli imparerebbe indubbiamente a vedere, ma gli mancherebbe la capacità di giudicare ciò che vede in modo giusto. Ora, le qualità necessarie per lo sviluppo del fiore di loto a sei petali già ci offrono una certa garanzia contro la confusione e l'instabilità, perché non sarà facile far cadere in tale confusione una persona che abbia conseguito un perfetto equilibrio fra senso, corpo, passione, anima e idea, spirito. Neppure questa garanzia è però sufficiente quando lo sviluppo del fiore di loto a sei petali permette all'uomo di percepire degli esseri dotati di vita ed indipendenza, i quali appartengono a un mondo così radicalmente diverso da quello dei suoi sensi fisici. Per trovare sicurezza in questi mondi non gli basta lo sviluppo dei fiori di loto. Gli occorre poter disporre di organi ancora più elevati. Parleremo ora dello sviluppo di questi organi superiori. Dopo potremo parlare anche degli altri fiori di loto e dell'ulteriore organizzazione del corpo animico. Lo sviluppo del corpo animico, quale appunto è stato descritto, permette all'uomo di percepire dei fenomeni supersensibili, ma chi vuole orientarsi veramente in questo nuovo mondo non deve fermarsi a questo gradino di evoluzione. La semplice mobilità dei fiori di loto non basta. L'uomo deve essere in grado di regolare e di dominare i movimenti dei suoi organi spirituali con indipendenza e con piena coscienza. Egli si trova altrimenti in balia delle forze e delle potenze esteriori. Per evitare questo pericolo deve acquistarsi la capacità di intendere la cosiddetta parola interiore e per riuscirvi occorre che egli sviluppi non soltanto il corpo animico ma anche il corpo eterico. Questo è quel corpo tenue che si palesa al chiaroveggente come una specie di doppio del corpo fisico. Esso è in un certo qual modo un gradino intermedio fra corpo fisico e corpo animico. Se si è dotati di facoltà chiaroveggenti si è capaci coscientemente di autosuggestionarsi in modo da non vedere il corpo fisico di un uomo che ci stia dinnanzi. Questa esperienza corrisponde in una sfera superiore a ciò che ha un grado inferiore è l'esercizio dell'attenzione. Come l'uomo può distogliere la sua attenzione da qualcosa che gli sta davanti in modo che per lui più non esista? Così il chiaroveggente è capace di cancellare completamente qualsiasi corpo fisico dalla sua percezione in guisa che esso diventi per lui completamente trasparente. Se il chiaroveggente esercita questa sua capacità sopra un uomo che gli sta dinnanzi il suo occhio spirituale scorge tuttavia ancora il cosiddetto corpo eterico oltre al corpo animico il quale è più grande di tutti e due e da cui ambe due sono interpenetrati. Il corpo eterico ha approssimativamente la grandezza e la forma del corpo fisico di guisa che esso riempie approssimativamente il medesimo spazio di quello occupato dal corpo fisico. Esso è un organismo di estrema delicatezza e tenuità. Il suo colore fondamentale è diverso dai sette colori contenuti nell'arcobaleno. Chi lo può osservare impara a conoscere un colore che non esiste affatto per l'occhio fisico e che non si può meglio paragonare che al colore dei giovani fiori di pesco. Se si desidera osservare unicamente il corpo eterico occorre cancellare dal proprio campo visuale per mezzo di un esercizio dell'attenzione uguale a quello precedentemente descritto anche il corpo animico perché altrimenti l'aspetto del corpo eterico appare trasformato dal corpo animico che lo interpenetra completamente. Orbene le particelle del corpo eterico sono nell'uomo in continuo movimento. Innumerevoli correnti le attraversano in ogni senso. Da queste correnti la vita viene alimentata e regolata. Ogni corpo che vive ha un corpo eterico siffatto. Le piante e gli animali lo hanno pure. Anzi perfino nei minerali l'osservatore ha curato può scorgerne le tracce. Le correnti e i movimenti ora citati sono dapprima completamente indipendenti dalla volontà e dalla coscienza dell'uomo così come l'attività del cuore o dello stomaco è nel corpo fisico indipendente dalla sua volontà. E questa indipendenza perdura fin tanto che l'uomo non si assuma la direzione del proprio sviluppo per l'acquisto di capacità supersensibili perché giunta a un determinato grado l'evoluzione superiore consiste appunto nel fatto che nel corpo eterico alle correnti e ai movimenti indipendenti dalla coscienza se ne aggiungono altri che l'uomo produce in modo cosciente. Quando l'educazione occulta è progredita al punto che i fiori di loto descritti nei capitoli precedenti cominciano a muoversi il discepolo ha già effettuato molto di quanto serve a far nascere delle correnti e dei movimenti ben determinati nel suo corpo eterico. Questo sviluppo mira a formare nelle vicinanze del cuore fisico una specie di punto centrale dal quale partono correnti e movimenti con colori e forme spirituali svariatissime. Questo centro in realtà non è un semplice punto ma una struttura molto complicata, un organo meraviglioso. Esso risplende e scintilla spiritualmente coi più svariati colori e palesa forme di grande regolarità che si possono trasformare rapidamente e altre forme e correnti di colore scorrono da questo organo nelle rimanenti parti del corpo e anche lo sorpassano nel mentre esse pervadono e illuminano l'intiero corpo animico. Di queste correnti però le più importanti vanno ai fiori di loto. Esse pervadono i singoli petali di questi fiori e ne regolano la rotazione, poi scorrono fuori dalle punte dei petali per perdersi nello spazio esteriore. Più un uomo è evoluto, tanto più è vasto il campo in cui queste correnti si estendono. Il punto centrale sopradescritto sta in rapporto particolarmente stretto con il fiore di loto a 12 petali. In questo confluiscono direttamente le correnti delle quali, attraverso di esso, alcune scorrono da una parte verso il fiore di loto a 16 petali e quello a 2 petali e dall'altra parte, quella inferiore, verso i fiori di loto a 8, 6 e 4 petali. Questa distribuzione spiega la ragione per cui la disciplina occulta deve sorvegliare con cura speciale lo sviluppo del fiore di loto a 12 petali, perché se vi si verificasse un'imperfezione, l'intiero sistema si svilupperebbe in modo disordinato. Da quanto è stato detto, si può valutare l'intima e delicata natura della disciplina occulta e ci si rende conto della necessità della massima precisione, perché tutto si possa svolgere in modo adeguato. Riesce ormai evidente che l'istruzione per lo sviluppo delle facoltà supersensibili può essere impartita soltanto da chi abbia già personalmente sperimentato tutto quello che egli desidera sviluppare negli altri e che si trovi perciò completamente in condizioni di sapere se le sue istruzioni conducono al giusto risultato. Quando il discepolo segue ciò che gli è stato prescritto dalle istruzioni impartitegli, egli produce nel suo corpo eterico delle correnti e dei movimenti che sono in armonia con le leggi e l'evoluzione del mondo al quale l'uomo appartiene. Perciò le istruzioni sono l'espressione delle grandi leggi dell'evoluzione del mondo. Esse sono costituite dalle meditazioni e dagli esercizi di concentrazione già esposti e da altri simili i quali tutti praticati giustamente producono gli effetti descritti. Il discepolo dell'occultismo in determinati momenti deve interpenetrare la sua anima completamente con il contenuto degli esercizi. Deve in certo qual modo riempirsene del tutto interiormente. Conviene cominciare con cose semplici, specialmente adatte a rendere più profondo il pensiero intelligente e assennato della testa, a interiorizzarlo. Questo pensiero è reso, in tal guisa, libero e indipendente da tutte le impressioni e le esperienze sensibili e viene, in certo qual modo, concentrato in un punto del quale l'uomo ha completa padronanza. Così viene creato un punto centrale provvisorio per le correnti del corpo eterico. Questo punto centrale, da principio, non è nella regione del cuore, ma nella testa, e vi si palesa al chiaroveggente come punto di partenza di movimenti. Soltanto quella disciplina occulta, che si dedica fin dall'inizio alla creazione di questo punto centrale potrà conseguire un risultato completo. Se il detto punto centrale venisse posto fin da principio nella regione del cuore, il chiaroveggente in questione potrebbe effettivamente penetrare qualche volta con lo sguardo nei mondi superiori, ma non potrebbe acquistarsi nessuna giusta contezza del rapporto di questi mondi superiori con il nostro mondo sensibile. Mentre, all'attuale stadio dell'evoluzione del mondo, questa conoscenza è per gli uomini di assoluta necessità. Al chiaroveggente non è consentito di diventare un sognatore. Egli deve poggiare con i piedi sul terreno solido. Il punto centrale nella testa, quando è giustamente consolidato, viene poi trasferito più in basso, nella regione della laringe, e questo cambiamento si effettua con l'ulteriore applicazione degli esercizi di concentrazione. Allora, i movimenti più sopra descritti del corpo eterico irradiano fuori da questa regione e illuminano lo spazio animico nell'ambiente che attornia l'uomo. Con ulteriore esercizio, il discepolo acquista la capacità di determinare da sé la posizione del suo corpo eterico. Dapprima questa posizione dipende dalle forze provenienti dall'esteriore e che emanano dal corpo fisico. Poi, evolvendosi, l'uomo diventa capace di volgere il corpo eterico da tutte le parti. Questa capacità si esercita per mezzo di correnti che scorrono a un dipresso lungo le due mani e che hanno il loro centro nel fiore di loto a due petali nella regione degli occhi. Tutto ciò si verifica per il fatto che le irradiazioni che emanano dalla laringe assumono forme sferiche, delle quali un certo numero vanno al fiore di loto a due petali e da lì si avviano come correnti ondeggianti lungo le mani. Come conseguenza ulteriore, queste correnti si ramificano e si diramano in modo sottilissimo e si intrecciano a guisa di tessuto, formando una specie di reticolato, una pelle di rete, che si stende come un limite intorno all'intiero corpo eterico. Mentre questo prima non aveva nulla che lo chiudesse e lo isolasse dall'esteriore, di guisa che dall'oceano universale della vita le correnti vitali direttamente entravano in esso e ne uscivano, ormai le influenze esteriori devono passare attraverso questa cuticola. Per via di ciò l'uomo diventa sensibile a queste correnti esteriori, egli le può percepire. Ormai è arrivato anche il momento di dare come punto centrale all'intiero sistema di correnti e di movimenti la regione del cuore e ciò si verifica a sua volta per mezzo del proseguimento dell'esercizio della concentrazione e della meditazione. Allora si è anche raggiunto il gradino su cui l'uomo viene dotato della parola interiore. Tutte le cose acquistano ormai per l'uomo un nuovo significato. Egli ne ode spiritualmente, in certo qual modo, l'intima essenza. Esse gli parlano della vera loro natura. Le correnti sopradescritte lo mettono in rapporto con l'interiorità del mondo al quale egli appartiene. Egli comincia a partecipare alla vita dell'ambiente che lo attornia e può farla riverberare nelle vibrazioni dei suoi fiori di loto. Così l'uomo penetra nel mondo spirituale. A questo punto egli acquista una nuova comprensione per tutto ciò che è stato detto dai grandi maestri dell'umanità. I discorsi del Buddha e i Vangeli, per esempio, esercitano ora su di lui un'azione nuova. Lo pervadono di una beatitudine di cui egli prima non aveva idea. Perché il suono delle loro parole segue i movimenti e i ritmi che egli ha ormai formati in sé stesso. Perciò egli può ora sapere direttamente che un uomo come il Buddha o come gli scrittori dei Vangeli non esprime le proprie rivelazioni, bensì quelle che a lui sono affluite dalla più intima essenza delle cose. Richiamo ora la vostra attenzione sopra un fatto che si può intendere soltanto con l'aiuto di quanto finora è stato detto. All'uomo che si trova allo stadio attuale della nostra cultura riesce poco chiara la ragione delle numerose ripetizioni che si trovano nei discorsi del Buddha. Per il discepolo dell'occultismo, invece, esse diventano qualcosa su cui egli riposa volentieri con il suo senso interiore, perché corrispondono a determinati movimenti ritmici nel corpo eterico. Se egli si abbandona ad esse con perfetta calma interiore potrà godere anche di un armonico accordo con quei movimenti. Perché? Essendo essi la riproduzione di determinati ritmi cosmici, che alla loro volta rappresentano in certi punti delle ripetizioni e dei regolari ritorni a ritmi più antichi, l'uomo, nell'ascoltare quel modo di parlare del Buddha, penetra nell'armonia dei segreti cosmici. La scienza occulta parla di quattro qualità che l'uomo deve acquistarsi nella cosiddetta via delle prove per poter ascendere alla conoscenza superiore. La prima di queste è la capacità di scindere nei pensieri il vero dalla parvenza, la verità dalla semplice opinione. La seconda qualità è la valutazione giusta del vero e del reale rispetto alla parvenza. La terza capacità consiste nell'esercizio, già descritto nel capitolo precedente, delle sei qualità. Controllo del pensiero, controllo dell'azione, perseveranza, pazienza, fede e imperturbabilità. La quarta è l'amore della libertà interiore. La semplice comprensione intellettuale del contenuto di queste qualità non serve a niente. Esse devono formare parte così integrante dell'anima da perdurare come abitudini interiori. Per esempio, la prima qualità, il discernimento della realtà dalla parvenza. L'uomo deve educarsi in modo da discernere naturalmente, di fronte a ogni singola cosa che gli si presenta dinnanzi, ciò che non è essenziale da ciò che ha importanza. Per potersi così educare, occorre che, con completa calma e pazienza, egli torni sempre a sottoporre a questa prova le sue osservazioni del mondo esteriore. Alla fine lo sguardo si ferma in modo naturale sulla realtà, così come prima si contentava di ciò che non era essenziale. Ciò che è transitorio non è che un simbolo. Questa verità diventa una convinzione naturale dell'anima e così pure lo devono divenire le altre cosiddette quattro qualità. Ormai il delicato corpo eterico dell'uomo si trasforma effettivamente sotto l'influenza di queste quattro abitudini dell'anima. Per mezzo della prima, discernimento della realtà dalla parvenza, viene creato il già descritto punto centrale nella testa e viene preparato quello nella laringe. Certo, per il loro sviluppo sono necessari gli esercizi di concentrazione di cui prima si è parlato. Sono essi a dare l'impulso creativo, mentre le quattro abitudini fanno maturare. Preparato che sia il punto centrale nella regione della laringe, quella libera padronanza del corpo eterico, della quale abbiamo parlato, e il rivestimento e la limitazione di esso corpo con la cuticola reticolata, si compie per mezzo della giusta valutazione del vero, di contro alla parvenza transitoria. Se l'uomo si eleva al punto di fare tale valutazione, arriva gradatamente a percepire i fatti spirituali. Non deve credere, però, di essere chiamato a compiere soltanto delle azioni che a giudizio della ragione possano sembrare importanti. L'azione più insignificante, il più piccolo gesto, ha la sua importanza nella grande economia dell'universo. Importa soltanto avere coscienza di questa importanza. Non si tratta di svalutare le pratiche quotidiane della vita, ma di valutarle giustamente. Delle sei virtù che costituiscono la terza qualità si è già parlato. Esse sono connesse con lo sviluppo del fiore di loto a 12 petali nella regione del cuore, verso il quale, come stato dimostrato, si deve effettivamente dirigere la corrente vitale del corpo eterico. La quarta qualità, il desiderio della liberazione, serve allora a far maturare l'organo eterico nelle vicinanze del cuore. Quando questa qualità diventa un'abitudine dell'anima, allora l'uomo si libera da tutto ciò che sta in relazione soltanto con le capacità della sua natura personale. Egli non considera più le cose dal proprio particolare punto di vista. Spariscono i confini dell'angusto suo sé, che lo vincolano a quel punto di vista. I segreti del mondo spirituale trovano accesso alla sua interiorità. Questa è la liberazione. Perché quei vincoli costringono l'uomo a considerare le cose e gli esseri in modo conforme alla sua personalità. E il discepolo deve diventare indipendente, deve liberarsi da questo suo modo personale di considerare le cose. Da tutto ciò risulta evidente che le istruzioni che emanano dalla scienza occulta esercitano un'azione profonda e determinante nella più intima natura dell'uomo. E le istruzioni che si riferiscono alle quattro qualità sopracitate sono appunto di questo genere. In una forma più o meno diversa esse si ritrovano in tutte le concezioni dell'universo che tengono conto del mondo spirituale. I fondatori di tali concezioni dell'universo non hanno dato agli uomini quelle istruzioni per virtù di un sentimento oscuro della verità, ma piuttosto perché essi erano dei grandi iniziati. È dalla conoscenza che essi hanno foggiato le loro istruzioni morali. Sapevano come queste agiscano sulla natura più delicata dell'uomo e volevano che i loro seguaci sviluppassero gradatamente questa natura più delicata. Vivere nell'osservanza di tali concezioni dell'universo significa lavorare al proprio perfezionamento spirituale ed è con questo lavoro soltanto che l'uomo può servire all'intiero universo. Perfezionarsi non è affatto egoismo perché l'uomo imperfetto è anche un servo imperfetto della umanità e del mondo. La nostra opera riuscirà tanto più utile al mondo quanto più saremo perfetti. Qui vale il detto quando la rosa adorna se stessa adorna anche il giardino. I fondatori delle importanti concezioni dell'universo sono perciò i grandi iniziati. Ciò che da essi proviene scorre dentro alle anime umane e in tal modo con l'umanità progredisce l'intiero mondo. Gli iniziati hanno lavorato coscientemente a questo processo evolutivo dell'umanità. Si comprende il contenuto delle loro istruzioni soltanto quando si osserva che esse sono tratte dalla conoscenza della natura più profonda e intima dell'uomo. Grandi sapienti erano gli iniziati e dalla loro sapienza hanno coniato gli ideali dell'umanità. L'uomo però si avvicina a queste guide quando si eleva con la propria evoluzione alla loro altezza. Quando l'uomo ha cominciato a sviluppare il corpo eterico nel modo precedentemente descritto gli si schiude una vita completamente nuova. E dall'insegnamento occulto egli deve ricevere al momento giusto le istruzioni che lo renderanno capace di orientarsi in questa nuova vita. Per mezzo del fiore di loto a sedici petali egli vede per esempio spiritualmente delle figure di un mondo superiore. Orbene egli deve rendersi chiaramente conto della diversità di queste figure a seconda che esse sono provocate da questi o da quegli oggetti o esseri. A tutta prima la sua attenzione può essere richiamata dal fatto che egli può esercitare una forte influenza per mezzo dei propri pensieri e sentimenti sopra una determinata specie di queste figure mentre non può esercitarla affatto o appena in misura minima sopra le altre. Una specie di queste figure si trasforma subito se chi le vede sorgere comincia col pensare. Questa è bella e poi modifica quel pensiero nel seguente. Questa è utile. Le figure soprattutto che provengono da minerali o da oggetti artificialmente costruiti hanno la peculiarità di modificarsi a seconda di ogni pensiero o di ogni sentimento che sorge in chi le osserva. Ciò si verifica meno nelle figure che appartengono alle piante e meno ancora in quelle che corrispondono agli animali. Anche queste figure sono mobili e piene di vita ma questa mobilità proviene soltanto per una parte dall'influenza dei pensieri e dei sentimenti umani e per l'altra viene effettuata da cause su cui l'uomo non ha influenza. Entro l'ambito di questo intero mondo di figure sorge anche una specie di forme le quali dapprima sfuggono quasi completamente all'influenza dell'uomo. Il discepolo dell'occultismo ha modo di convincersi che queste figure non provengono né da minerali né da oggetti artificiali come pure non dalle piante né dagli animali. Per arrivare a completa chiarezza al riguardo egli deve osservare le figure delle quali e può sapere che sono prodotte dai sentimenti, dagli istinti, dalle passioni eccetera degli altri uomini. Ma egli si accorge che anche su queste figure i suoi pensieri e i suoi sentimenti esercitano ancora qualche seppur minima influenza. Nel mondo delle figure rimane sempre un residuo sul quale questa influenza va man mano sempre più diminuendo. Anzi questo residuo costituisce al principio del cammino del discepolo proprio una gran parte di ciò che egli generalmente può vedere e della natura di essa egli può ora rendersi conto soltanto per mezzo dell'osservazione di sé medesimo. Allora scopre quali figure sono state prodotte da lui stesso. Ciò che egli stesso fa, vuole, desidera eccetera si esprime in quelle figure. Un istinto che in lui risiede, un desiderio che egli alberga, un proposito che egli nutre eccetera tutto ciò si manifesta in tali figure. Veramente l'intiero suo carattere si esprime in tale mondo di figure. L'uomo dunque per mezzo dei suoi pensieri e dei suoi sentimenti coscienti può esercitare un'influenza sopra tutte le figure che non emanano da lui stesso. Su quelle però che produce nel mondo superiore per mezzo della sua natura, dal momento che le ha create, egli non ha alcuna influenza. Da quanto è stato detto risulta pure che, per la percezione superiore, la vita interiore dell'uomo, i suoi istinti, i suoi desideri e l'intiero mondo delle sue rappresentazioni, tutto ciò si esprime in forme esteriori, proprio come gli altri oggetti e gli altri esseri. Per la conoscenza superiore, il mondo interiore diventa parte del mondo esteriore. Come nel mondo fisico, un uomo che fosse circondato da specchi potrebbe contemplare a quel modo la propria forma fisica, così nel mondo superiore l'entità animica dell'uomo si presenta a lui come un'immagine riflessa. Su questo gradino dell'evolizione è arrivato per il discepolo il momento in cui egli supera l'illusione che deriva dalla limitazione della sua personalità. Egli ormai può considerare ciò che è nella sua personalità come un mondo esteriore, così come considerava prima mondo esteriore ciò che agiva sui suoi sensi e impara così gradatamente, con l'esperienza, a trattare se stesso come prima trattava gli esseri attorno a lui. Se all'uomo si aprisse lo sguardo in questo mondo dello spirito, prima che egli fosse sufficientemente preparato, si troverebbe a tutta prima dinanzi all'immagine già descritta della sua propria anima come di fronte a un enigma, perché i suoi istinti e le sue passioni gli si presenterebbero allora con figure che gli sembrerebbero animali o più di rado forme umane. A dire il vero, le figure animali di quel mondo non sono mai completamente uguali a quelle del mondo fisico. Non di meno hanno con queste una lontana somiglianza e dagli osservatori inesperti possono spesso essere considerate come uguali. Quando si penetra in quel mondo bisogna adottare un modo completamente diverso di giudicare. Perché, a prescindere dal fatto che le cose le quali appartengono effettivamente all'interiorità umana vi si palesano come mondo esteriore, esse si presentano anche come immagini riflesse di ciò che realmente sono. Quando, per esempio, vi si vede un numero, bisogna leggerlo a rovescio, come si usa fare per un'immagine riflessa da uno specchio. Di fatti, il 265, per esempio, vi significerebbe realmente il numero 562. Una sfera è veduta da noi come se ci si trovasse al centro di essa. Occorre poi interpretare giustamente questa visione percepita dal di dentro. Ma anche le qualità animiche compariscono come immagini riflesse. Un desiderio, che si riferisce a qualcosa di esteriore, si presenta come una figura che muove incontro alla persona che l'ha desiderata. Le passioni, che hanno la loro sede nella natura interiore dell'uomo, possono assumere forma di animali o di figure simili, che si avventano contro di lui. In realtà, queste passioni tendono verso l'esteriore. Esse cercano l'oggetto della loro soddisfazione nel mondo esteriore. Ma questa ricerca verso l'esteriore si palesa nell'immagine riflessa come un assalto rivolto contro la persona stessa che alberga la passione. Se il discepolo dell'occultismo, prima di ascendere alla visione superiore, ha imparato, per mezzo di un'auto-osservazione calma e obiettiva, a conoscere le proprie qualità, allora, al momento in cui la sua interiorità gli si presenta come immagine esteriore riflessa, troverà il coraggio e la forza di comportarsi in modo giusto. Gli uomini che non hanno acquistato, per mezzo di tale introspezione, una conoscenza sufficiente della propria interiorità, non riconosceranno se stessi in quella loro immagine riflessa e crederanno che si tratti di una realtà a loro estranea. Quella vista incuterà loro pure timore e, non potendo sopportarla, cercheranno di persuadersi che tutto ciò non è che una creazione fantastica che non conduce a niente. In ambo i casi, il prematuro arrivo dell'uomo a un determinato stadio del suo sviluppo sarebbe di ostacolo all'ulteriore sua evoluzione. È assolutamente necessario che lo studente dell'occultismo attraversi questa esperienza della visione spirituale della propria anima per poter poi ascendere più in alto, poiché è nel proprio sé che egli possiede quell'elemento spirituale animico di cui meglio può giudicare. Se egli ha cominciato per acquistare nel mondo fisico una solita conoscenza della propria personalità e poi l'immagine di questa sua personalità gli si affaccia prima di ogni altra nel mondo superiore, egli può fare un confronto fra le due. Può riferire la superiore a quella che già conosce e sarà in grado per tal modo di partire da un terreno sicuro. Se invece gli si presentassero molte altre entità spirituali, egli non sarebbe a tutta prima affatto in grado di spiegarsi la loro natura ed entità e si sentirebbe presto sfuggire il terreno di sottipiedi. Non si può perciò mai ripetere abbastanza che la via sicura verso il mondo superiore è quella che passa attraverso una seria conoscenza e valutazione della propria entità. Sono immagini spirituali dunque quelle che l'uomo incontra a tutta prima sul cammino verso il mondo superiore, perché la realtà che corrisponde a quelle immagini è di fatti in lui stesso. Il discepolo deve perciò essere maturo per non chiedere a questo primo gradino delle crudi realtà e considerare invece le immagini nel loro giusto aspetto. Ma dentro a questo mondo di immagini egli impara presto a conoscere qualcosa di nuovo. Il suo sé inferiore gli sta dinanzi soltanto come immagine riflessa da uno specchio, ma al centro di questa immagine riflessa apparisce la vera realtà del sé superiore. Dall'immagine della personalità inferiore risulta visibile la figura dell'io spirituale ed è soltanto da quest'ultimo che i fili si stendono verso altre realtà spirituali superiori. Ormai è venuto il momento di servirsi del fiore di loto a due petali che sta nella regione degli occhi. Se esso comincia a muoversi, l'uomo acquista la possibilità di mettere il suo io superiore in rapporto con entità spirituali superiori. Le correnti che emanano da questo fiore di loto si muovono verso realtà superiori in modo che l'uomo è completamente cosciente dei relativi movimenti. Come la luce rende gli oggetti fisici visibili all'occhio, così queste correnti rendono visibili gli esseri spirituali dei mondi superiori. Immergendosi nelle rappresentazioni che provengono dalla scienza occulta e che contengono verità fondamentali, il discepolo impara a mettere in movimento e a dirigere le correnti del fiore di loto degli occhi. Che cosa sia forza sana di criterio ed ed educazione chiara e logica, si manifesta in special modo a questo gradino dell'evoluzione. Basta riflettere che su quel gradino il sé superiore, che ha dormito fino allora nell'uomo incoscientemente, come un germe, nasce a esistenza cosciente. E non si tratta di una nascita nel mondo spirituale in senso figurato, ma in senso completamente reale. E per poter essere vitale questo nuovo essere, il sé superiore, deve venire al mondo provvisto di tutti gli organi e le disposizioni necessarie. Come la natura deve provvedere perché un bambino venga al mondo con orecchi e occhi ben formati, così le leggi dell'auto-evoluzione di un individuo devono avere cura che il suo sé superiore entri nell'esistenza con tutte le capacità necessarie. E queste leggi che provvedono allo sviluppo degli organi superiori dello spirito stesso, altro non sono che le sane leggi della ragione e della morale del mondo fisico. Come il bambino si matura nel grembo materno, così l'uomo spirituale nel sé fisico. La salute del bambino dipende dall'attività normale delle leggi della natura nel grembo materno. In modo analogo, la salute dell'uomo spirituale dipende dalle leggi dell'intelligenza ordinaria e della ragione operante nella vita fisica. Non può generare un sé superiore sano chi non viva e non pensi in modo sano nel mondo fisico. Una vita conforme alla natura e alla ragione sta a base di ogni vera evoluzione spirituale. Come il bambino nel grembo della madre già vive in conformità delle forze della natura che egli percepirà dopo la sua nascita con i suoi organi sensori, così del pari il sé superiore dell'uomo vive già in conformità delle leggi del mondo spirituale durante la sua esistenza fisica. E come il bambino, per virtù di un oscuro sentimento vitale, assimila le forze che gli sono necessarie, così pure l'uomo assimila le forze del mondo spirituale prima che il suo sé superiore sia nato. Egli anzi deve fare così perché quest'ultimo possa venire al mondo come un essere completamente sviluppato. Sarebbe in errore chi dicesse non posso accogliere gli insegnamenti della scienza occulta se prima non vedo io stesso, perché se egli non approfondisce la ricerca spirituale non potrà arrivare alla vera conoscenza superiore. Egli si troverebbe allora nella medesima condizione di un bambino nel grembo materno, il quale rifiutasse di adoperare le forze trasmesse gli dalla madre perché vuole aspettare di potersele procacciare da sé. Come l'embrione del bambino sperimenta per virtù del suo sentimento vitale la bontà di ciò che gli viene offerto così l'uomo non ancora veggente sperimenta la verità degli insegnamenti della scienza occulta. Vi è un intendimento che si basa sopra un sentimento di verità e un'intelligenza chiara, sana e universalmente critica, il quale permette di penetrare in questi insegnamenti anche quando ancora non si vedono le cose spirituali. Occorre prima imparare le conoscenze mistiche e con questo studio appunto prepararsi alla veggenza. Un uomo che arrivasse alla veggenza prima di essersi preparato a quel modo somiglierebbe a un bel bambino nato con occhi e orecchi ma senza cervello. L'intiero mondo di colori e di suoni gli si squadernerebbe d'innanzi ma egli non saprebbe che farne. Ciò dunque che prima riusciva evidente all'uomo per virtù del suo sentimento di verità, della sua intelligenza e della sua ragione diventa a questo gradino del discepolato esperienza sua propria. Egli ha ora conoscenza diretta del suo sé superiore e impara a riconoscere che questo sé superiore è in rapporto con entità spirituali di genere superiore e con esse è tutt'uno. Egli vede perciò come il sé inferiore derivi da un mondo superiore. Egli si palesa che la sua natura superiore sopravvive all'inferiore. Egli può ormai distinguere da sé ciò che in lui è perituro da quello che è permanente. Ciò significa che egli impara per visione diretta la dottrina dell'incorporazione o incarnazione del sé superiore in quello inferiore. Gli risulta ora evidente che egli è situato in un complesso spirituale superiore e che le sue qualità e i suoi destini sono determinati da questo insieme. Egli impara a conoscere la legge della sua vita, il karma. Si avvede che il suo sé inferiore, così come foggia attualmente la sua esistenza, non è che una delle figure che il suo essere superiore può assumere e scorge dinanzi a sé la possibilità, per mezzo del suo sé superiore, di elaborare se stesso per diventare sempre più e più perfetto. Egli è ormai in condizioni di vedere anche la grande diversità che esiste fra gli uomini nei riguardi del loro grado di perfezione e si accorge che vi sono uomini al di sopra di lui, i quali già hanno superato i gradini che egli ancora deve salire. Si avvede ancora che gli insegnamenti e le azioni di tali uomini provengono dalle ispirazioni di un mondo superiore. Tutto ciò gli si rivela nella prima sua visione diretta di questo mondo superiore. Coloro che si chiamano i grandi iniziati dell'umanità cominceranno ormai ad essere per lui un fatto reale. Questi sono i doni conferiti al discepolo dell'occultismo a questo gradino della sua evoluzione. Visione del sé superiore, dell'insegnamento dell'incorporamento o incarnazione di questo sé superiore in uno inferiore, della legge in conformità della quale la vita è regolata nel mondo fisico secondo dei rapporti spirituali, la legge del karma e finalmente dell'esistenza dei grandi iniziati. Di un discepolo che ha raggiunto questo gradino si dice perciò che non conosce più dubbi. Mentre prima egli poteva formarsi una fede sopra ragioni logiche e pensieri sani, ormai al posto di questa fede subentra la piena conoscenza e la visione che niente potrà alterare. Le religioni nelle loro cerimonie, sacramenti e riti hanno riprodotto in guisa esteriormente visibile le immagini di processi e di esseri spirituali superiori. Soltanto chi non è ancora penetrato nelle profondità delle grandi religioni può non accorgersene. Chi però penetra con lo sguardo nella realtà spirituale comprenderà anche il profondo significato di quelle pratiche esteriormente visibili e allora il rito religioso diventa per lui un'immagine della sua propria comunicazione con il mondo spirituale superiore. Così si vede come il discepolo dell'occultismo col raggiungimento di questo gradino sia diventato veramente un uomo nuovo. Egli può ormai maturarsi gradatamente per mezzo delle correnti del suo corpo eterico fino al punto di dirigere il vero elemento vitale superiore e di conseguire in tal modo la completa libertà dal suo corpo fisico.